Arredare Casa Magazine nel centro commerciale Ibleo di Ragusa hanno presentato il nuovo progetto rivolta ai giovani architetti in grado di esprimere una nuova idea per abitare social. Il progetto vincitore sarà realizzato da Arredare Casa in scala reale all'interno del centro commerciale Ibleo su una superficie complessiva di oltre 400 metri quadrati e sarà pertanto visitabile fino al prossimo mese di maggio. La casa dunque come fulcro della vita sociale, luogo deputata all'evoluzione al benessere dei suoi abitanti. La casa è il manifesto del design contemporaneo, non circoscritta all'essenza del bello come valore estetico fino a se stesso, bensì come pensiero rivoluzionario creato per proporre nuovi stili di vita. Noi come Omicron Elettronica ci occupiamo di dare sicurezza a questa casa tecnologica dentro il centro commerciale Ibleo per far vedere in modo pratico l'evoluzione di questi strumenti di protezione che si possono adottare per in effetti dare sicurezza ad un ambiente abitativo. Quindi noi installeremo dei sistemi perimetrali per dare una protezione di antiintrusione, un sistema volumetrico per dare protezione all'interno della casa e un sistema di videosorveglianza per far sì che tutto quello che succede possa essere visto sia localmente e sia anche dall'esterno dai siti remoti con tablet, cellulari o computer o altri sistemi che possono far vedere la casa. Quindi speriamo, siamo stati coinvolti in questo progetto eccezionale, speriamo di riuscire veramente a far vedere qualcosa di diverso, qualcosa di veramente un po' di eccellenza nella nostra zona. La nostra location, sita appunto nella città di Ragusa, permetterà per la prima volta che non è mai stata fatta anche in ambiti commerciali e anche nella grossa distribuzione organizzata di realizzare all'interno del centro commerciale un'abitazione. Quindi sono, mi diceva Gianni, sono arrivati oggi gli ultimi progetti per quanto riguarda questa realizzazione di questa casa che si è realizzata appunto con tutti i crismi all'avanguardia e sarà interamente realizzata all'interno di una struttura del nostro centro commerciale. Tutte poi le varie ditte parteciperanno ad allestire e a montare questa casa e tutte le varie fasi quindi poi saranno seguiti in corso d'opera. Il nostro obiettivo quindi è anche una cosa nuova che abbiamo voluto fare all'interno del centro commerciale per differenziarsi un po' dei nostri competitor e dare un'alternativa e qualcosa di nuovo in più ai nostri clienti. Arredare Casa tende a qualificare, a porre l'attenzione al mondo dell'arredamento e dell'architettura. Abbiamo scelto di fare questo evento in Sicilia perché Arredare Casa nasce in Sicilia, a vedere la luce in Sicilia per cui è qui che noi vogliamo anche cominciare questa nuova avventura di questi eventi particolari che abbiamo chiamato Casa Social in questa circostanza cioè una casa per come oggi si vive il mondo dell'architettura cioè una casa che non sia più un posto dove ci si va a mangiare piuttosto che a dormire è una casa dove è possibile interagire. Oggi a casa ci si lavora grazie alle tecnologie, ci si ospita, ci si incontra. Quindi è una casa che è un po' un'interazione con la gente e abbiamo notato una cosa importante. Io personalmente che ho incontrato le aziende che fanno parte di queste partnership abbiamo notato che le aziende, è vero che siamo in un periodo di forte crisi però le aziende sono state coinvolte, noi abbiamo inteso coinvolgere aziende veramente importanti e che comunque hanno un grosso know-how nel mondo della costruzione perché è un progetto importante da realizzare, dobbiamo costruirla questa casa in effetti e abbiamo notato che le aziende si sono lasciate coinvolgere nonostante come ha detto lei il periodo di crisi, nonostante il periodo difficile perché evidentemente la necessità di avere progetti interessanti, importanti sui quali poter investire evidentemente c'è e noi l'abbiamo riscontrata perché abbiamo riscontrato una buona adesione di partnership. È un'iniziativa che innanzitutto coinvolge i giovani e coinvolge il territorio e sono due cose fondamentali in questo momento. Il momento è molto difficile, lo abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo tutti quanti però effettivamente vedere che i giovani rispondono e che il territorio e altre aziende del territorio rispondono a questa iniziativa ci dà ancora fiducia in questo momento. E' importante per noi la partecipazione, è molto bella perché seguiremo questo giovane il vincitore della selezione nella sua avventura, lo vogliamo affiancare nel migliore dei modi potremmo affiancare anche le aziende perché poi alla fine scara oltre a Fiat che è il mezzo con cui, Fiat Professional con tutti i mezzi, i veicoli commerciali che sicuramente ogni giorno affiancano molte delle aziende che avete coinvolto quindi già di molti di loro siamo già partner noi con i nostri mezzi però in particolare questa vettura che è quasi sicuramente una 500, una 500L non una vettura normale, quindi già una vettura innovativa come soluzione e giovane ci fa piacere lo accompagni in questa sua esperienza. L'azienda Crea in questo progetto casa, come capirete, con la domotica ma anche con l'audio, con il video, con la propria professionalità è parte integrante di questo progetto, anzi dà un valore aggiunto a tutti i partner perché non fa altro che integrare i vari sistemi, i sistemi di sicurezza anche riguarda un certo tipo di arredamento dove la domotica può fare con degli scomparti abbastanza automatizzati, dare la possibilità all'utente di gestire il video, l'audio anche creando sistemi di multi-room, di home theater e quindi la domotica che farà la Crea in questa bellissima struttura tecnologica avanzata sarà un fiore all'occhiello al progetto. Grazie per la visione!